Ho avuto fortuna adesso arrivando qua per conferenza stampa passare anche vicino al campo olimpico, stadio olimpico. J'ai eu la chance aujourd'hui en venant ici di passer a coté du complexo olimpico e du stadio olimpico du 5 juillet. Questa apertura da tre parti chiusa da una parte aperta è bellissima e veramente spero avere possibilità anche una volta di giocare lì. Cet ensemble qui è fermé su tre coté e ouvert su un quatrième è veramente una tre bella cosa, ma avrei l'occasione di poterlo vedere un po' più di più près. Un po' assomiglia a San Siro con verticalizzazione della tribuna. Il mi rappel un po' l'estad di San Siro di Milano con questa verticalità delle strutture.